Seconda parte dei verbi con il déjà vu è precisamente i verbi indurre trarre porre sono verbi che derivano da un infinito più antico di origini latine e sono verbi molto produttivi perché per esempio abbiamo condurre produrre contrarre sottrarre supporre comporre eccetera questi verbi si comportano in un modo simile al presente al participio passato l'imperfetto e al futuro dell'indicativo per cui è importante vedere come si formano a questi tempi e in questo modo ci sarà più facile ricordarli allora i verbi che finiscono indurre come produrre ricordano per la formazione di alcuni tempi e modi l'infinito ducere lo stesso succede con i verbi che finiscono intrarre come sottrarre che partono da traere per formare alcuni tempi e modi e un fenomeno analogo succede con i verbi che finiscono imporre come proporre che partono da ponere sul presente indicativo su come è la coniugazione del presente indicativo di questi verbi ho fatto un altro video quindi non sto a ripetere ma basterà che vi ricordiate la prima la seconda persona per poter poi ottenere tutta la coniugazione per il participio passato tutti i verbi che finiscono indurre fanno dotto intrarre fanno tratto e imporre fanno posto per cui per esempio produrre prodotto contrarre contratto e supporre supposto l'imperfetto indicativo nei verbi che hanno il deja vu che sono questi ce ne sono altri tre o quattro parte sempre dall'infinito latino quindi io non formerò l'imperfetto indicativo dall'infinito produrre ma dall'infinito producere e così per sottrarre e per proporre per formare il futuro invece noi sappiamo che si parte sempre dall'infinito e questa volta l'infinito italiano quindi la coniugazione del futuro è totalmente regolare anche se può sembrare un po strana ma perché l'infinito è strano allora metti in pausa il video e prova a completare la tabella questa volta coi verbi ridurre estrarre e comporre ed ecco qui la soluzione ridurre io riduco tu riduci ridotto riducevo ridurrò estrarre io estraggo tu estrai estratto estraevo estrarò comporre io compongo tu componi composto componevo comporrò tra parentesi va bene ricordare che partendo dal presente indicativo dal participio passato dell'imperfetto indicativo dal futuro indicativo e aggiungerei del passato remoto io posso formare tutti gli altri tempi e modi grazie a tutti